Si è svolta ieri in questura a Salerno una riunione per definire le misure organizzative suggerite dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive in vista dell'incontro fra Agropoli e Battipagliese. Nel corso dell'incontro si è deciso di ridurre a 150 posti la capienza del settore ospiti dello stadio Guariglia di Agropoli e di prevedere la vendita dei tagliandi per gli ospiti al costo di 5 euro da giovedì mattina fino alle ore 19 del giorno antecedente la gara presso il teatro sociale Aldo Giuffre in via Guicciardini a Battipaglia. Gli interessati all'acquisto dovranno esibire un documento di identità e la società battipagliese dovrà trasmettere entro le 10 di domenica 28 ottobre alla questura di Salerno l'elenco degli acquirenti comprensivo del nominativo e della data di nascita. Il comandante della compagnia dei carabinieri di Agropoli avrà cura di comunicare alla società dell'Agropoli le prescrizioni in argomento.